Signori e signori, la mia voce l'avete già riconosciuta perché sono Johnny Crick e purtroppo ho messo un po' troppi video su internet e la gente sta cominciando a chiamarmi fulminato tipo vado al D per D, prendo una pera, c'è il fulminato! No, comunque, oggi per questo commentare abbiamo un ospite, dire speciale, cioè non lo so abbiamo un ospite tipo il primo uomo, no il primo uomo sulla luna suona di merda questa roba però la prima donna sulla luna perché è la prima fan femmina della donna, perché femmina suona male la prima fan donna di Melagodo che fa un commentary con me, per me è un grandissimo onore quindi presentati pure! Ciao a tutti ragazzi, sono Ilaria Ok ragazzi, adesso Ilaria mi ha promesso, ha promesso al Johnny Crick che deve dire una cosa urlando per un grandissimo amico melagodiano Sì, perché poi è la verità, Ron ha la voce sexy, cioè dobbiamo dirlo per forza Ron, te lo stanno dicendo anche le ragazze che ha la voce sexy, ma è vero che ha la voce sexy allora nei video non è una mia impressione No, no, è la verità purtroppo, deve sapirlo Non ti pare tipo un po' soft infatti Deve rendere conto Eh, cioè a te, ad esempio, ora ti faccio una domanda, tanto ormai siamo amici io e Ilaria, no? Sì Se tu senti la voce mia su YouTube, anche adesso che stiamo parlando Questo è un pazzo Esatto, non diresti mai, mamma mia, mi sono innamorato di questo, non lo diresti mai Cioè, ci posso scommettere quello che vuoi Questo è un drogato, lasciamolo stare Ok Ma quando hai sentito la voce di Ron? Ah così, no, basta, questo me lo sposo, per forza Grandissimo, guarda, ti stimo, vengo lì e ti abbraccio, così Ron mi cristonerà un casino dopo sto commento E' bellissimo, comunque bando alle ciance, fratelli, guardate che E sorelle, scusa E sorelle, scusate Guardate che anche lei gioca COD, e mi dicono che addirittura è tipo la seconda più brava in Italia Sì, boh, la più brava di tutti No, dai, non sono male, ho raggiunto da poco il primo prestigio Ma sei su Black Ops o Modern Warfare 2? Black Ops perché l'ho scoperto l'anno scorso quando è uscito E quindi ho detto, tanto vale prendere Modern Warfare 3 piuttosto che prendere il 2 Ma questo può essere anche un ragionamento, vedi voi donne siete bravi in questo Perché fate ragionamenti, pensate al futuro Io invece, pensa te, sto cercando COD 4 che è uscito mille anni fa E poi sì che non lo trovi Vabbè, sono dettagli Comunque adesso facciamo parlare Ilaria, Lost per una volta So che non era programmato, infatti adesso anche lei poi mi dirà qualcosa quando finiamo Però Lost per un minuto lo fa Ilaria Beh, cosa posso dire? Sono un po' strana, diciamo Perché comunque, diciamo, mi schiaccio Senso gioco a COD, faccio software e voglio fare anche l'accademia militare Quindi sei una specie di Rambo al femminile Sì, dai, però Silvester Stallona, diciamo Esatto E quello che dicevo prima anche a te È che all'inizio, dopo aver sentito una cosa del genere Dicono, vabbè, lasciamola stare questa È il tempo che vedono le foto Tutti, oh ma ciao, ma sei bravissima, come stai? Esatto, adesso io non lo posso dire ragazzi Perché più o meno Sono grande E sono fidanzato Quindi non lo dico Perché sennò si sente una zoccolata Che mi frantuma l'emisfero proprio Mi frantuma il cervello Quindi è meglio che sto zitto Perché potrebbe rientrare da un momento all'altro Guarda, non si sa mai Perché c'è il mercatino, no? E l'ho andato a fare un giro Comunque io ho la foto sua La posso vedere su Skype E posso anche capire Che magari qualche grandissimo fan Può viaggiare verso di te, secondo me Poi Io abito a Milano No, no, è così ti sei smerdata E hai detto abito a Milano Ti viene una popolazione adesso a Milano Dai, dai Cerchiamo Vediamo chi mi trova No, dai Comunque io penso che se qualcuno te lo chiede Dai, sei anche disponibile Alla fine Dalle PSN Facebook ancora, ancora Vediamo È una brava ragazza Affidati Poi per parlare con me Se ne vuole E infatti vai Ci vuole un po' un bilancino Capisco col sexy Ron Però con me Insomma Vediamo Faccio una domanda io un po' su Black Ops Ma Sì Che classe usi? Allora E dimmi la tua classe Classe mia preferita È la cappa silenziata Per forza Ma quello piccolo o quello grosso? In che senso? Che domanda ho fatto a una ragazza Cioè, no Quello lì La K74U Come si chiama? Ah no, la K74 Ah ok E ci metti il calcio? No, il silenziatore Ah, il silenziatore Tu passi Però infatti quello è il bello dell'acqua Che te le segnala in rosso È ragione, è vero Ma anche dietro i muri, no? Mi pare Sì, è così Le nascondono Tu non te ne accorti neanche Comunque è arrivato il primo prestigio Ragazzi Guardate che sta superando me Porca miseria Cioè qua bisogna fare qualcosa A parte che superare me Non sono tanto male Ancora ancora so giocare Per essere una ragazza Devo dire Comunque Alla fine I fucili da cecchino Non li usi? O usi solo mitragliette? No Perché Io uso di solito I fucili d'assalto Perché Di precisione L'unico decente È PSG1 Lì Ma gli altri Non mi piacciono Non ti piace? Posso usare la scusa Che su Black Ops Non si riescono A fare i quickscop È furba questa ragazza È furba Vedete qua Mette in difficoltà anche Ma è una domanda Tipo da fare Perché ovviamente Questo video Se si sparge la voce Che c'è una ragazza Mille mila Visualizzazioni Ci sarà Ma Ho paura che ci siano I non mi piace No dai No I non mi piace No Guarda fidatevi Io la foto la vedo È abbastanza gnocca Io non posso dire niente Perché ho già detto La spiegazione prima Ma non è Non è malvagia Suona male Comunque una bella ragazza Dai Quello si può dire Oh poi sei stata L'unica Sembrerebbe che ha accettato A fare un commentary Quindi Yeah Porca miseria È stata l'unica No vabbè L'unica a cui ho chiesto Che ha accettato Di fare un commentary Con me Ma Alice Se ci sente Preparati anche te Perché arrivo Anche da te Alice è quella della radio Non far finta di non guardare Sto video Che poi vengo lì E ti prendo Comunque 30 secondi conclusivi Li lascio ad Ilaria Ciao grandissimi Da Johnny Creek E niente Cosa posso dire Fratelli Vi stimo tutti quanti Jk Sei Grandissimo Cosa posso dire E E niente Viva Cod Me la godo Sì Me la godo No Me la godo Te spacca Missione compiuta Ottimo lavoro Dio Le la godo . Grazie a tutti.